Buongiorno! Buongiorno un cazzo! Che bozza! Ma le piame dai culo! Che sacco di coglioni! Stupido! Guarda quel cazzo! Almeno le sfragnino! Cazzo che strada! Guardate! Eccolo il cucciolone! Guarda il cucciolone! Guarda! 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 Ma guarda da me! Guarda! Guarda! Guarda Vanzebello stamattina! Ehi senti! C'è le manzoni! Vanzebello! Dammi un bacino! Dammi un bacino! Sei contento eh che mi hai visto! Si ma basta che te ne vedi! Sei bucchiare? Sei contento che mi hai visto per primo eh! Ehi senti! Mi sono alzato apposta presto per vedertelo! sei contento o no? si si tanto tanto da uno a trenta fiffi tre ziii da uno a trenta penavini oh te levo di coglione ma che noia che fa barriè c'ha ragione nonna eh se uno ti sta un po' c***o ma sono noia su se tu una noia se uno ti sta vicino 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 vattene no no stavo vattene il martellon dalla capocca no vabbè così no sotto la goccia sotto la goccia sotto la goccia sotto la goccia ah sotto la goccia buongiorno oggi giovedì e una volta a settimana bisogna fare la barba al top mamma mia guarda quanta ce n'era una settimana di barba oggi si parte è giovedì e si va fermati vieni qua che hai fatto? che hai fatto? è pieno di f***a davvero? si si guardami ma com'è com'è? guardaci guardaci ma sta pieno? si sta f***o di f***a? si vabbè è tutto questo com'è com'è? è nero nero nero? e poi? nero in mezzo alle gambe con che? e in mezzo alle gambe che c'è? ahhh che c'è? la s*****a eh ma come ti piace da te? col pelo quanto? tanto quanto? più ce n'è meglio più ce n'è meglio ma dimmi una cosa eh eh secondo te questo outfit dimmi una cosa quando è che ti s*****o dico io dimmi una cosa dai a parte i scherzi guarda qui è buono qui questo outfit va bene? qui? l'outfit fa una f***a eh ci credo va bene è meglio nudo meglio nudo ha ragione anche stamattina abbiamo eh sei minato la figa anche stamattina per fortuna adesso si va in macchina si illuminava da 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 indovinate dove sono? dal dottore eccolo ciao ragazzi oggi prendiamo l'impronta sì l'improntina per fare lo sbiancamento perché per Natale mi regala una cosa pazzesca poi ve lo faremo vedere più avanti un Natale più bianco no? un Natale più bianco un Natale più bianco Natale adesso prendiamo l'impronta vai fa male no? eh sì questo no no oggi proprio so cuore leggero dal dentista col sorriso vai sempre quello allora dove potevo ritrovarlo cioè eccolo raccogli le palline è la mese che è il merito faccio anche a di master vai vai sì vai raccogli bene via non sei bravo sei più bravo a raccoglierle finalmente amico mio amico mio guarda come si è capovolto il mondo guarda quanto elegante è lui guarda che outfit da fashion block mamma mia perché se ne è sabito oggi oggi ne è sabito ma è uguale oggi viziatura a livelli giusti banana con granella di nocciola e basta ci potevi mettere un po' di cioccolato mai no grazie la merenda del campione che farima con eccolo mannaggia il padre che sacco di co***i mi è caduto il cellulare buonasera a tutti è così mi è caduto il telefono però la vorrei rifare eccolo l'amico mio bello che mangia tutto con l'uccello ma che parolone beh cosa che te ne vedi vado a mangiare se no più il piatto lo sbatte lì a me ne ho vale ma allora lui più il piatto lo sbatte di lì proprio qua e poi via fa così e poi se ne va saluta tutti e se ne va cioè lui sbatte il piatto qua da là fa così qua no io sto a fare vedere che lui prende il piatto così sbatte là e poi prende e se ne va prende e se ne va è vero no? un po' è così oh nonni l'amico mio bello ecco la c***a o no perché c'è c'è Conte che sta parlando ma parlo di scuole ma che sta parlando ma perchè? ma che sto a prendere quello che dice lui e tu che fai? i magno e Conte? eh lui cacchia ragazzi perchè fia fia i soldi la c***a per mese lui e tu che fia sulla mortatella? sì e fia un pardo coglione e dopo? o no? eh e dopo? e dopo ho chiamato un c***o e poi? lui lavora ha lavorato due mesi due anni fino alla barca di soldi io lavora 40 anni per fare il cartone da loro no però magne ve eh? magne eh? magne che magne? oh la mortatella e loro mangono la ciccia la tagliata poi oh poi oh e poi oh e poi magne non pardo coglione oh un'altra volta dice che è il magneato ma che ha magneato? come ha magneato? ha magneato? ha magneato? ha magneato l'erba? sì l'erba c'è la capa c***a l'erba senza pane ha magneato va bene va bene basta che ha magneato? che ha magneato? beh di cui voglio non sapere che ha magneato? vedo l'ora di crema per un disco più corto con quello di lui no ma che ha magne tutti io non ha magneato un c***o davvero? sì da me non mi pare sei un po' ma qua la bilancia va su la bilancia va su eh? 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 eh 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 questo c***o che va giù o no? oh no da me non voglio niente oh no dai tu ma non ne voglio il c***o io non è sentelo ma non lo per te che io dai dai ma non lo per te che io sentelo oh p***a sentelo ma non ne è su mannaggia il c***o di strada c***o che ne voglio? assaggilo non ne voglio ma prova a assaggiare ma manca si muore assaggilo mannaggia il po' no assaggilo sento vattene però fanno il preseppino ah ma non lo fanno parte scherzo se scordano i figli della boccia non ti scorda questo del preseppino d'accafalla si 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 facciamo il preseppino mmm facciamo un no e lepote di c***o sennò noi facciamo un leggettato un c***o ah fanno il preseppino ma il preseppino vattene ah fanno il no sto preseppino no ma perchè? perchè non vuoi fare niente? no fanno il preseppino no guarda sparisce ah fanno il c***o no oh testa di c***o ma la bocca fanno dentro il c***o scappa tutto no? ma perchè? il proprio aria no 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 mi ha mollato tutto sei contento adesso? sì mi ha fatto un c***o buco va bene questo sì lei mi ha fatto un c***o di c***o ah vuole fare una scommessa che stanotte ti passo la macchinetta di qui? ma il c***o non mi passo la macchinetta di qui? stanotte dai capelli dai cardinali ciliero vattene no da parte se fanno una scommessa che io ti passo eh? oh vuoi scommetti che ci passo? o no? levate i c***o eh vuoi scommetti o no? scommetti? ora la dico forza ma madonna che c'è e mamma è stata la piccola ma vieni indietro che stai a fa' o no? sto cercando la prolunga un'altra volta e levate i c***o ma che c'è a fa' con tutte queste prolunga? levate i c***o che tante non ci vuoi vicino ah ma che stai a fa' con la prolunga? o che c***o mi fai? giustamente c***o che hai cercato la prolunga che fai? e beh la prolunga me la metto in c***o e dopo? e dopo che c'è fai? vattene! perché? mannaggia dillo più piano ma Paioli ma che c***o fai la prolunga? dillo tu stai a ascoltare la musica? dillo tu ma lei che stai a fa' che stai a fare? oh che stai a fa' Fausti oh guardami Dio oh e io cosa fa? e te lascio i c***o coglioni e dopo che mi sono sciacolato i coglioni che devo fare? e dopo sto bene io e io dopo che fai? che fai dopo? farei tu dove agi però io? affanculo ah? ah? aaaaaaah a figa oh grazie grazie presidente c'è qui una grande cuoca io voglio far vedere io voglio far vedere da quell'amico mio vede che roba vede? eh? vede? l'hai visto? l'hai visto? scrocchè l'hai visto che lavorazione artigianale? eh? guarda un po' grande chef ciao ciao oh pronto tu sei uno stronzo con la bandiera dal c***o testa di c***o me la smette di rompi i c***o dalla gente quando sta c***o la tua stronzo no ma così? e come? come la fa? e se era qualcuno lì? ma dimmi che l'ha chiuso ma che ha sentito? comunque questo telefono basta madonna e questo telefono come la fa? non so che non fa niente e li mangio e non fa niente? li mangio un po' come te che li guardi e io li mangio eh? ciao comprati a Rafa oh io gli aiuto tua moglie gli porto la farina gli rompo gli uova e invece tu se rompi i c***o dalla tua moglie che le sta a fare? ozioso coccodrilli buonanotte a tutti anche oggi siamo stradivertiti e ma come vi divertite voi mi diverto anch'io stando con la mia famiglia con le persone che amo e questo è l'importante ragazzi rimettetevi il cuore di gioia di carica positiva di vibrazioni positive vedrete che andrà tutto bene anche nei momenti più brutti soprattutto e niente detto questo domani è un grande giorno si 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 è venerdì voglio il cellulare che deve esplodere raga tutte storie si 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 è venerdì dalla mattina boom 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 così anche perché domani avrò bisogno perché avevo dei valori sballati sulle analisi quindi devo rifare delle analisi specifiche ma spero tutto bene quindi vediamo un attimo io sono forte e anche grazie a voi il vostro capitano ma senza una squadra il capitano non c'è anche perché in un periodo così bisogna divertirsi bisogna essere spensierati bisogna e io spero veramente vivamente di aiutarvi in questo perché boh vi vorrei proprio non so da la carica tutti i giorni proprio sta con ognuno di voi singolo ognuno di voi e boh non lo so è una cosa che ho dentro a posto io dalla mattina che parto a mille la mia mamma mi dice le volte ma che cazzo stai fatto devi dare una calmata ma no ma che mi do una calmata io c'ho tutte le persone che amo le mie persone i miei follower i miei amici virtuali che vogliono questo quindi io bam ve lo do al massimo adesso basta buonanotte voglio bene ciao